Craft Maga La strada a volte potrebbe essere pericolosa Te lo sei mai chiesto se un giorno ti succedesse qualcosa Sapresti difenderti se qualcuno ti attaccasse Sapresti difenderti con testa e classe Questa è Craft Maga Imparati tutte le mosse E vedrai che metterai al tappeto le teste grosse Questa è un'autodifesa che ti dà autostima Come un'automobile quando fai pieno di benzina La consigliamo a voi e a tutte le persone Craft Maga è la migliore difesa anti-aggressione Potresti essere attaccato da delinquenti e ladri K.M. è la tua difesa a 360 gradi Devi correre, scappare, neutralizzare la minaccia Per salvarti la pelle, sì, e salvarti la faccia Gli elementi fondamentali sono semplicità Velocità, efficacia ed aggressività Craft Maga, l'autodifesa da strada Craft Maga, l'autodifesa che si dilata